partiti in vantaggio Miss Aider con all'esterno Pistonesi e Bridge Ghostly seguono Deuteronobio con a largo Mujain of Centra con in coda mister Mackman cavalli ora lungo la curva con al comando Miss Aider è passato ora Bridge Ghostly nei confronti di Mujain of Centra quindi Miss Aider Pistonesi, Deuteronomio, Carta Romana e in coda mister Mackman siamo ora in retta di arrivo con Bridge Ghostly allo seccato in seguito all'esterno da Mujain of Centra che ha a ridosso Pistonesi lungo la corda segue Mujain of Centra quindi Carta Romana, mister Mackman e Deuteronomio. Siamo a trecento dal palo con Bridge Ghostly che allunga lo seccato nei confronti di Mujain of Centra quindi Carta Romana e mister Mackman del tratto conclusivo e in vantaggio Bridge Ghostly nei confronti di mister Mackman e Carta Romana sul palo e Bridge Ghostly che si impone nei confronti di mister Mackman, Carta Romana e Mujain of Centra. Rivediamo le immagini Bridge Ghostly e Carletto Fiocchi a bersaglio in questa quarta di Napoli numero due dello schieramento quarto cavallo di testa in giornata tutti in avanti vincitori del poveriggio al posto d'onore con a lungo finale il sette di mister Mackman ha piegato sul palo il quattro di Carta Romana quindi due sette quattro il probabile ed ufficioso arrivo della quarta di Napoli.